Buonasera a tutti, siamo qui per questo incontro che è stato titolato Io, il popolo. È una lezione della professoressa Nadia Urbinati, come sapete docente di teoria politica alla Columbia University, editorialista di Repubblica e che tra le altre cose sta per andare in stampa con un libro che si intitola appunto Me the People, parafrasando l'espressione della Costituzione americana. Io, il popolo, introduco rapidamente questa lezione e poi ci scambieremo qualche appunto, qualche nota a margine, qualche domanda. Io, pensando al titolo di questa conversazione, mi è venuto in mente di ragionare su questo, che io, il popolo, che sono due categorie della politica, sono due categorie che sono diventate sempre più astratte. Esiste il popolo, esistono i popoli, esistono i popoli nella loro evoluzione storica, ma spesso il popolo evocato dai populisti non esiste, è una costruzione politica e anche mediatica. Così come esiste l'io del leader che si propone come capopopolo, ma questo io che si propone come capopopolo, a sua volta molto astratto perché molto costruito, si rivolge a una platea di individualità, di singolarità, che lui cerca di riportare a popolo, a comunità, a collettività, con la sua leadership, con la sua sintesi. E a loro volta però queste individualità, queste singolarità, sono in realtà molto frammentate, sono molto atomizzate. È difficile dire che esiste questa individualità che si immagina un leader quando si rivolge, ad esempio, ancora una volta, al popolo della rete, al popolo dei social. E quindi il paradosso che queste due categorie, io e il popolo, che sono e sembrano molto stabili, molto solide, in realtà sono molto fluide, molto difficili da definire. E soprattutto quello che viene meno, quello che è venuto meno in questi ultimi decenni, direi, non soltanto in questi ultimi anni, è tutto quello che è in mezzo tra l'io del leader, l'io del capopopolo e il popolo. E questo è il segno più caratteristico dei nostri tempi, direi, che tra l'io e il popolo non c'è nulla, non ci sono i mitici corpi intermedi, ma c'è una società sempre più atomizzata, sempre più frammentata, che è una delle chiavi di lettura di questo fenomeno, che con varie gradazioni, anche, permettetemi, di banalità e di banalizzazioni, chiamiamo populismo. Ma io su questo lascio la parola alla professoressa Urbinati per la sua lezione e poi ne parliamo insieme. Grazie. Grazie a tutti e grazie a Milano, siamo insomma qui. Io avevo chiesto di mandare... Eccolo lì! Allora, organizzo questa lezione breve, ovviamente, che è la sintesi di questo libro che sta per uscire, sul discorso di Trump, che Trump tenne il giorno della sua inaugurazione alla presidenza, era il 20 gennaio del 2017. Io ho ritagliato una parte, quella più significativa, che ci consente di ricostruire il canovaccio del me the people, io il popolo, che rappresenta abbastanza efficacemente l'idea di una democrazia del capopopolo. Ecco, così si potrebbe chiamare. Tung, cominciamo da quasi tre secondi dopo che si è... ha cominciato il discorso, ha detto ogni quattro anni ci riuniamo su questi gradini, sono i gradini di Campidò, per effettuare il trasferimento ordinato e pacifico del potere. E siamo grati al Presidente Obama e alla First Lady Michelle Obama per il loro gentile aiuto durante questa transizione. Sono stati magnifici. Grazie. Quindi, via. Cioè, tocca a me ora. La cerimonia di oggi, tuttavia, ha un significato molto speciale, perché oggi non stiamo semplicemente trasferendo il potere da un'amministrazione ad un'altra, o da un partito ad un altro, ma stiamo trasferendo il potere da Washington, D.C., e restituiamolo nuovamente a voi, il popolo. Per troppo tempo, un piccolo gruppo nella capitale della nostra nazione ha raccolto i benefici del governo, mentre il popolo ne ha sostenuto il costo. Washington è fiorita, ma il popolo non ha partecipato della sua ricchezza. I politici hanno prosperato, ma i posti di lavoro se ne sono andati e le fabbriche hanno chiuso. L'establishment ha protetto se stesso, ma non i cittadini del nostro Paese. Le loro vittorie non sono state le vostre vittorie. I loro trionfi non sono stati i vostri trionfi. Mentre loro hanno celebrato nella capitale della nostra nazione, c'era poco da festeggiare per le famiglie che sono in difficoltà nel nostro Paese. Tutto questo cambia, a partire proprio da qui e da ora, perché questo momento è il vostro momento, appartiene a voi, appartiene a tutti quelli riuniti qui oggi, a tutti quelli che stanno guardando da tutta l'America. Questo è il vostro giorno, questa è la vostra festa. E questo, gli Stati Uniti d'America, è il vostro Paese. Ciò che veramente è importante non è quale partito controlla il nostro governo, ma se il nostro governo è controllato dal popolo. Oggi, 20 gennaio 2017, sarà ricordato come il giorno in cui il popolo ha ripreso nuovamente in mano il governo di questa nazione. Questo discorso, probabilmente ispirato o scritto da Steve Bannon, tuttavia ben letto da Donald Trump, è uno, in poche parole, un capolavoro di retorica stringata, efficace e molto chiara, di capo populismo, di capo popolo. E io la vorrei con voi analizzare, pezzo per pezzo, perché attraverso questa analisi possiamo ricostruire le caratteristiche di una democrazia populista, che dopotutto è una democrazia, perché non tracima fuori, non crea una dittatura, anzi, nel momento in cui lo farebbe, non sarebbe più populismo, sarebbe qualcos'altro, e tuttavia non diventa nemmeno una democrazia, una maggioranza come tutte le altre, perché anche in quel caso non sarebbe più populismo. Quindi la democrazia populista, e questo lo si vede nell'azione di Trump, e non solo sua, la democrazia populista ha la caratteristica seguente, deve essere in permanente costruzione, per non diventare come una normale democrazia, o una normale maggioranza, o per non tracimare fuori. E questa permanenza di mobilità e di movimento la caratterizza, e Trump ne è in questo senso esplicativo di questo. Dunque, la cerimonia di oggi. Questa non è una celebrazione di un normale trasferimento di potere, non è semplicemente una maggioranza che sostituisce un'altra maggioranza, qui la regola di maggioranza svolge una funzione completamente diversa, perché non è semplicemente una regola che stabilisce chi ha vinto per ora e chi ha perso in vista di domani e di un'altra maggioranza che si può formare, questa è considerata come la maggioranza buona del Paese, ovvero la vera maggioranza, l'altra non era vera maggioranza. Quindi anche se il populismo non cambia le regole del gioco, tuttavia l'interpretazione, il rivestimento che fa di queste regole è ideologicamente tarato, per dire che solo uno può essere il popolo buono, l'altro non è popolo. E infatti nel corso del suo discorso insiste su un elemento fondamentale che è presente in tutti i populismi, antichi e moderni, americani e non americani, ovvero il dualismo tra establishment e popolo, non tra elite e popolo. Non significa cogliere bene la questione se si usa la parola elite, perché la parola elite può includere anche le elite economiche, le elite sociali, chi sta bene tanto, i plurimiliardari come lui. Quindi Trump, plurimiliardario ricchissimo, come il nostro Berlusconi, plurimiliardario ricchissimo, eppure possono usare l'argomento noi contro l'establishment. Perché? Perché l'establishment contro il quale qui si definisce il popolo, il popolo non è definito per se stesso, è definito in relazione contro l'establishment, sono quei politici, tutti i politici precedenti, che occupano le istituzioni o comunque che operano le istituzioni. Perché sono la negatività? In Italia uscì anni fa un volume che si chiamava La Casta. Perché? Perché non vivono, non producono nulla. L'establishment non vive nella società civile, politica o economica e sociale. Di beni non ne produce, dal punto di vista materiale, visibile. Vive, e ci sono delle bellissime iconografie dall'Ottocento in poi, nelle varie forme populiste, vive sucking the blood, cioè succhiando il sangue del popolo, ovvero con la tassazione e con l'uso delle istituzioni, una classe di persone si autoriproduce senza produrre nulla. Vive non di suo. Ecco l'establishment. L'establishment quindi è una classe politica e non è una classe economica. Infatti Trump, Perrault, oppure Berlusconi o Fujimori erano ricchissimi, sono ricchissimi e sono ben piazzati in società e nell'economia. Però possono dire questo perché erano solo outsider. Tutti loro sono outsider. Outsider di partiti, in alcuni casi se ne sono fatto uno. Outsider rispetto all'establishment. E questo dà loro diciamo la legittimità di mettere la loro faccia su questo popolo mai visto invisibile che al quale loro danno visibilità. Quindi il capopopolo dà esclusivamente la sua faccia e diciamo la sua voce, le sue corde vocali perché le parole non sono sue, sono le parole del popolo a questo popolo invisibile, non visto, non riconosciuto e che ha sofferto lungamente. Questa retorica è permanente. In tutti i leader populisti dall'Ottocento in poi la si può trovare. ed è molto interessante ancora un altro aspetto di questo mettere il nome del popolo e il nome del leader. Ernesto Laclau che è un sostenitore della politica populista e un grande teorico secondo me è uno dei migliori della democrazia populista benché non condivida la sua passione per il populismo tuttavia la sua analisi è molto calzante sostiene che siccome il popolo di cui parla il populista non è strutturato ovvero non è il popolo dei partiti lo dice Trump e qui non sono i partiti indipendentemente dai partiti che saranno qui è irrilevante è importante che il popolo ritorni al governo il governo ritorni al popolo ecco quindi non è il popolo strutturato partiti movimenti associazioni organizzazioni ma è un popolo atomizzato e nella condizione di sofferenza generica ovvero siamo noi genericamente detti individui che non hanno una rappresentanza che non hanno voce allora come unire questi individui che sono insoddisfatti impoveriti che i partiti esistenti non hanno capacità di rispondere alle loro esigenze non ce l'hanno più e forse veramente hanno spesso di svolgere la loro funzione di mediazione o di intermediazione resta che cosa resta questa capacità della faccia e della voce del capopopolo di unire nella sua persona come finzione l'intero popolo quindi il populismo ha il nome del popolo il populismo ha il nome del leader non esiste un populismo senza il nome del leader provate voi immaginare nella nostra andare per tutte le varie forme di populismo se riuscite a costruire o avere nella nostra immagine un populismo senza il nome di un leader si chiama peronismo si chiama ciavismo si chiama urbanismo si chiama salvinismo si chiama berlusconismo o berlusconiano si chiama trumpismo cioè è il leader che dà la faccia al popolo è in qualche modo la capacità o gli si arroga il diritto di dire io sono voi cosa vuol dire io sono voi è una strategia straordinaria io sono voi perché è una strategia straordinaria perché il capopopolo una volta al governo ma accidenti dovrà dimostrare di non essere establishment poiché lui ha scalzato l'establishment ed ha conquistato la legittimità rettorica e politica e elettorale contro l'establishment come fa ad andare a Washington o a Roma o a Budapest senza diventare establishment come fa a operare nel palazzo e ancora fare pretendere di non essere establishment e qui veniamo la caratteristica di questo dar voce al popolo e di essere il popolo è proprio questa ovvero dover dimostrare quotidianamente una volta che comincia il governo del populista che egli tuttavia non è e non sarà mai establishment e avrà delle strategie per dimostrare questo due in particolare che sono diciamo riscontrabili nelle forme effettive di populismo al potere una è di essere permanentemente in campagna elettorale ma non è questa è una strategia necessaria poiché il popolo non può dimenticarsi della sua faccia il popolo non può dimenticarsi di essere uno nella faccia del leader e quindi il leader dovrà essere sempre presente e parlare con lo stesso linguaggio del popolo guardate questo è molto importante non è importante tanto che il leader sia ricchissimo ma è importante che condivida la stessa morale comune del popolo comune del cittadino ordinario vi ricordate quando Trump fece campagna elettorale e si scoprì che era un po' abbastanza aggressivo con le donne bene disse giustificò se stesso per le parole anche i gesti poco raccomandabili che aveva usato dicendo ma no ma questi sono un linguaggio da palestra da spogliatoio che tutti gli uomini usano quindi io sono come voi il capo popolo non è un eroe perché noi non siamo eroi non è un il migliore perché noi non siamo i migliori è come noi è noi e questo è molto importante quindi anche nel linguaggio ordinario in Twitter in Facebook continuamente ogni giorno usa espressioni parole mimica perfino del volto che appartiene a quella alla vita ordinaria e a quello di tutti ciascuno di noi questa è una strategia quindi audience democrazia dell'audience è naturalmente la porta aperta a queste forme di democrazia del capo popolo c'è un'altra strategia che in America è quasi impossibile perché cambiare la Costituzione americana è un'impresa titanica è impossibile poiché alcune emendamenti sono stati fatti ovviamente però occorre avere una grandissima compagine quasi unanime di tutti i 50 stati che compongono la federazione quindi comunque cambiare la Costituzione questo in realtà è avvenuto in alcune democrazie populiste o del popolo è avvenuto in Ungheria è avvenuto in Polonia è avvenuto ovviamente in Venezuela tempo fa e altrove cosa fa? che tipo di mutamento della Costituzione viene fatto? alcuni studiosi parlano a questo punto del populismo che si fa a potere costituente vuole scrivere la sua Costituzione ma che Costituzione? è la Costituzione della maggioranza che è il popolo cioè per la prima è molto interessante questo aspetto perché nell'ammutamento che viene proposto dalle Costituzioni questo lo si vede bene per esempio con l'Ungheria si fa in modo di ingessare una maggioranza affinché quella maggioranza buona di cui ha parlato Trump all'inizio noi siamo la vera maggioranza diventi costituzione diventi costituzionalizzata a questo punto la distanza tra legge costituzionale e legge ordinaria viene a cadere la legge ordinaria si costituzionalizza una maggioranza diventa costituzionalizzata e in qualcuni casi questo è possibile in Ungheria è stato possibile e significa dare il potere supremo politico ovviamente alla maggioranza a cascata in quelle altre istituzioni che compongono lo Stato ora non voglio poi così possiamo anche parlare due popoli o un popolo e gli altri fuori io credo che non siano due popoli quelli di cui parlano i capi popolo perché l'establishment è un tradimento del popolo non è parte del popolo quindi questo dualismo schmittiano amico-nemico bisogna interpretarlo qui perché l'establishment è dichiarato essere non popolo sono coloro che sono come diciamo parassiti del popolo quindi possono distruggerlo semmai ma non sono parte quindi sono un perennemente della possibilità del popolo di essere diciamo sfruttato da una parte quindi quando i capi popolo parlano di popolo intendono l'unico popolo solo quello che loro rappresentano quegli altri non appartengono a quello e quindi sono permanente oggetto di offesa questo Obama scusate Trump lo fa perennemente cioè non vengono abolite aboliti diritti individuali non vengono abolite le elezioni però si usa la strategia di umiliare l'opposizione umiliarla in vari modi attraverso i twitter oggi è molto facile anche mandando i bacioni come si fa oggi umiliare l'opposizione umiliare coloro che non sono popolo perché non sono noi americani o noi italiani e questo crea un clima che anche se non è dal punto di vista formale istituzionale un altro regime tuttavia ha un tenore di politica di vita politica ordinaria nella vita quotidiana che riproduce quel dualismo quella spaccatura tra noi e voi e che sul quale il populismo agisce quindi questa è una riproduzione dei due del popolo e degli altri perenne quotidiana due domande con le quali vorrei finire e le quali cercare non di dare una risposta ma di far comprendere che queste sono due domande centrali alle quali chiunque tiene le nostre democrazie costituzionali rappresentative e teme questi loro disfiguramenti populisti dovrebbe porsi in maniera seria parentesi non è che si tratti di crisi di democrazia siamo sempre in democrazia come hanno scritto alcuni bravi studiosi dopotutto Trump è stato votato e quindi Trump è un leader democratico di un paese democratico e quindi anche la democrazia può produrre cose che non ci piacciono va bene così purché resti tale nelle istituzioni ma occorre far qualcosa di più perché come abbiamo visto le istituzioni hanno bisogno di un tenore di argomentare di discorso pubblico di rapporto tra i cittadini che non possono essere nemici continui come lo sono o come ci chiedono i populisti di trattarli quindi le due domande dove da dove emerge il bisogno di un nemico e il bisogno di un capo qui non si parla di nemici di classe intendiamoci perché le classi avevano una realtà storica esistente non erano costruite ex novo dal leader il popolo è diverso il popolo non c'è e quindi lo si può costruire non c'è nel senso che ci sono popolazioni che ci sono cittadini ci sono associazioni ma il popolo questo collettivo uno che non è identificato con la nazione necessariamente non c'è e quindi è tutto da costruire per cui la costruzione del nemico è un fatto che non è legato alla dialettica del materialismo o al materialismo storico ma è costruito retoricamente quindi dove emerge questo bisogno di costruire il nemico è il bisogno di un capo e qui occorre questa prima domanda e secondo me l'analisi delle origini della genesi del populismo è molto importante poiché può sempre accadere una democrazia come è accaduto in passato il populismo americano nasce con un partito politico e poi diventa movimento nasce nel 1892 con the people's party e poi diventa un movimento perenne che ritorna gradualmente e quindi questo esiste quando quando lo scontento sociale quando l'impoverimento quando la diminuzione di potere sociale ed economico dei cittadini democratici è visibile misurabile e denunciabile quindi le democrazie non possono oggettivamente promettere un mondo peggiore non ha senso devono promettere un mondo migliore non possono promettere ai loro cittadini che domani le cose andranno peggio devono promettere che le cose andranno meglio ma se quelle promesse non hanno poi riscontro allora coloro che per anni hanno proposto quella idea di miglioramento verranno puniti quindi come dice Trump fine con la democrazia dei partiti perché questi hanno condotto questa nazione ad un governo che non è più controllato dal popolo e che rende questo popolo in condizioni miserrime quindi è un elemento è la perdita di legittimità delle democrazia dei partiti che in Europa nasce nel 1945 in maniera formale ma di fatto è da 200 anni che i partiti esistono con il governo rappresentativo per operare nella dimensione dell'opinione e del governo benissimo l'altra perché bisogna di un capo qui a questo punto diremmo che anche la trasformazione dei mezzi di comunicazione e il declino del partito come organizzazione devono essere tenuti in conto perché il partito come organizzazione e noi ne sappiamo qualcosa in Italia significa che l'organizzazione è un modo per contenere l'ambizione di potere del capo che c'è sempre anche quando non c'è un Trump o un Salvini c'è sempre o Matteo Renzi c'è sempre quindi il partito ha la funzione non soltanto di generare consenso e organizzare la partecipazione ma anche di contenere di limitare il potere dei suoi leader e quindi la perdita di organizzazione del partito è una componente che facilita la formazione di leader plebiscitari e quindi anche di capi popolo l'altra domanda quindi il problema sociale e il problema politico la seconda domanda che dovremmo farci è questa come si possono scongiurare queste minacce per la democrazia noi non lo sappiamo perché la democrazia le produce la democrazia è un governo rischioso non ha delle diciamo così delle delle reti che lo sostengono non è un governo che esclude a priori quelli che non piacciono anche perché se non piacciono oggi domani possono cambiare quindi essere parte del gioco è complicato escludere dal gioco politico molto complicato per la democrazia quindi come scongiurare questa minaccia non c'è forse nessuna altra soluzione se non prendere sul serio questi capi popolo non considerarli semplicemente come diciamo burattini ma prenderli sul serio perché rappresentano un sintomo di un malessere un sintomo di un problema e quindi se si vuole evitare che ne succedano ovvero che uno segue all'altro perché generalmente il populismo poi genera l'opposizione populista una richiama all'altra perché come si fa a contenere un populista leader se no con un altro contro un leader populista quindi è evidente che per congiurare queste minacce occorre ricorrere occorre ritornare a ricostruire parlavo dei corpi intermedi a ricostruire questo strato di partito organizzato senza il quale i populisti sono parte del gioco democratico può non piacerci ma fino a quando non c'è una violazione esplicita dei diritti delle regole costituzionali e del governo della legge fino a quando non ci sono questi attacchi diretti e le istituzioni sono incapaci o inattive o inefficaci a difendere l'ordine costituzionale non si può essere non si può che riconoscere che è parte del gioco democratico e questo che lo rende problematico intrigante è un perenne problema perché è sempre possibile è come un dormiente che al momento nel momento della grande difficoltà si risveglia e ritorna io mi fermerei qui allora grazie è meglio grazie vorrei dire alcune cose che mi ha suggerito la la lezione e partirei credo che questo sia forse la cosa che mi colpisce di più quando hai detto la democrazia populista è sempre una democrazia credo sia il cuore della della lezione e anche l'aspetto inquietante perché è come un corpo sano che produce cellule malate come avviene anche in medicina come avviene in natura e le cellule malate vengono prodotte proprio dalla sanità del corpo in un certo senso e poi sappiamo che purtroppo si nutrono proprio di quell'organismo che che stanno aggredendo ma non si può dire che siano fuori dall'organismo e non si può dire che siano fuori soprattutto dal corpo elettorale quindi non si può dire che siano fuori da noi da noi intesi come come i cittadini ma c'è un aspetto importante di quello che hai detto cioè è il fatto che il populista considera il suo potere la costruzione del suo consenso in permanente evoluzione in permanente costruzione in mobilità in movimento ecco io credo che questo sia esattamente l'antidoto anche se non è un antidoto facile io credo che dal 1989 in poi quindi negli ultimi trent'anni non scelgo quella data a caso ovviamente a un certo punto negli anni della caduta del muro di Berlino immediatamente successivi si è pensato che la democrazia avesse vinto la fine della storia in fondo era questo la fine della storia era dire la liberal democrazia ha vinto in tutto il mondo ha vinto nell'Oriente il muro è caduto è viva non c'è altro da dire e la democrazia si è pietrificata è diventata appunto establishment è la democrazia che è diventata marmorea che è diventata monumentale o che è diventata pura procedura svuotando nella sostanza perché una democrazia che invece continua a percepire se stessa e naturalmente quando dico questo dico gli attori della democrazia che sono il corpo elettorale quindi i cittadini sono i partiti sono le istituzioni non elettive e qui ci metto dentro la magistratura ci metto dentro la stampa ci metto dentro gli organi che svolgono un controllo costituzionale per i paesi che li prevedono dalla Corte Suprema alla Corte Costituzionale italiana se tutte queste istituzioni si sentono dentro un processo dentro un movimento la democrazia è sana se queste istituzioni si percepiscono come establishment e chiudono ogni respiro ogni battito ecco che la democrazia produce come reazione il populismo e credo e temo che è esattamente quello che è successo in questi decenni quando una serie di istituzioni nazionali e questo vale ancora di più per le istituzioni sovranazionali come l'Europa hanno cominciato a parlare di se stesse in termini di in termini scontati in termini naturali in termini dati e conquistati acquisiti una volta per sempre mentre quello che che stava succedendo era esattamente che gran parte della popolazione anche di quella magari che non vota i partiti populisti ma sente lo stesso quello che succede ha sentito un distacco ha sentito una sofferenza si è sentita abbandonata e si è sentita respinta da questo establishment veniamo veniamo all'Italia tanto per l'articolo 3 della Costituzione che dice che la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno svolgimento della persona e l'uguaglianza tra i cittadini l'uguaglianza sostanziale non formale è attuato si può dire no è stato attuato in parte è stato attuato in alcune fasi ma i cittadini non lo percepiscono come è attuato ma c'è una tensione ad attuarlo ecco questa è la vera domanda perché un articolo come quello di fatto non c'è mai un'attuazione perché risolto un ostacolo se ne presenterà un altro negli anni 70 sono state fatte leggi sui diritti civili e poi sui diritti sociali ma così si è colmata l'esigenza di uguaglianza no perché subito dopo ed è la storia arriva un'altra sfida un'altra disuguaglianza da colmare un'altra un'innovazione che pone pensiamo alle innovazioni tecnologiche quanti quanti problemi pongono sul piano dell'uguaglianza però se non si colma e non si rimuove mai del tutto l'ostacolo si percepisce almeno la tensione a volerlo fare ecco questa è una domanda più insidiosa che riguarda le classi dirigenti di varia natura e forse ancora una volta la risposta è negativa e questo davvero ha provocato anche nel nostro paese la sensazione che l'establishment avesse tradito io credo questo sia un tema interessante di ragionamento poi ne indico altri due posso rispondere a questo è enorme brevemente due aspetti vorrei sottolineare il primo hai ragione cioè la democrazia è stata concepita per molto tempo come un fatto acquisito e anche realizzato se noi leggiamo nel documento della commissione interlaterale del 1975 the crisis of democracy ma the crisis perché crisis perché crisi nel 1975 c'era per loro crisi perché c'era una società troppo mobilitata troppo organizzata che chiedeva e che chiedeva al governo di operare c'erano sindacati c'erano attività era gli anni 70 vero e qual era l'idea di democrazia non in crisi in quel progetto in quel documento era una democrazia semi apatica poiché come quando io non ho bisogno da soddisfare non esco di casa e non vado al mercato a comprare nulla così quando io non ho lamentele o claim o desideri perché faccio da solo non mi rivolgo allo Stato e questo rende la vita politica più calma meno diciamo meno esigente e un po' di apatia fa del bene anzi tanta apatia fa del bene c'è stato per molto tempo questa visione pensiamo alla concezione molto complicata di governabilità cosa vuol dire essere capace di governabilità vuol dire una società che viene tenuta in qualche modo distante e che non la si deve coinvolgere più tanto e questo è un problema perché la democrazia è naturalmente capace continuamente di produrre diffidenza nei confronti di coloro che gestiscono il potere è la diffidenza nei confronti dell'establishment non ce la danno i populisti è interna la democrazia e se noi non riusciamo a comprenderla anche il valore non riusciamo a capire che spetta anche a noi contenere la politica populista faccio un esempio storico uno secondo me è uno dei primi documenti della democrazia contemporanea cioè elettorale e non diretta che il documento dei levelers del 1648 dicono esattamente questo noi vogliamo votare perché vogliamo eleggere coloro che devono governare noi ma anche perché non ci fidiamo abbastanza e quindi anche votarli non sarà sufficiente quindi non pensiamo che basta votare per poter essere sicuri di essere governati dai nostri rappresentanti occorre mantenere un livello una distanza un gap tra loro e noi in modo da tenerli sempre sotto controllo e naturalmente cacciarli via quando non ci piacciono quindi l'idea che la democrazia anche quando è stabilizzazione elettorale non è risoluzione della diffidenza nei confronti di coloro che governano anche quando sappiamo che possiamo mandarli via e questo è vita è dinamismo democratico è una energia fondamentale Kelsen uno dei più grandi studiosi e teorici della democrazia diceva che la democrazia è proprio capacità di formare molti leader perché capacità di tenere in una forma sempre di tensione tra il dentro e il fuori noi diremmo e questo noi lo dimentichiamo lo dimentichiamo cioè la democrazia è dentro è governabilità è dentro le istituzioni no la democrazia è dentro è fuori è un potere diarchico una diarchia fuori ci sono associazioni stampa libera organizzazioni quella è democrazia perché è libertà di parole di espressione di associazione politica e poi ci sono le istituzioni le due autorità chiamiamole di opinione e di volontà istituzionale devono sempre dialogare distinte diverse ma sono sempre in tensione e sarebbe assurdo e non sarebbe democrazia quindi articolo 3 è l'espressione di quest'idea in divenire cioè la democrazia è un processo di costruzione però dal momento in cui quelle promesse ricordiamo il libro di Bobbio siamo a Torino 1984 il futuro della democrazia le sei promesse tra queste c'è la promessa di ugualianza economica o di una condizione di decenza politica scusate sociale ed economica che consente ai cittadini di avere il senso dell'autorità di essere cittadini la cittadinanza è una forma di governo di autorità e quindi se il cittadino è misero in bisogno di una carta scusate di una social card di povertà in bisogno di trattare la sua libertà di cercare lavoro dove e quando vuole per ottenere una sostegno beh allora qui ci dovremmo porre il problema se la sua cittadinanza la cittadinanza di queste persone ha tanto valore quanto la cittadinanza mia e nostra degli altri ecco perché il problema sociale non è esterno alla democrazia certo che non vogliamo essere costruire una democrazia di identici nella proprietà non è un sistema socialista però una democrazia nella quale noi sappiamo di poter avere la stessa diciamo riconoscimento di cittadinanza tanto nel sociale quanto nel politico è fondamentale ecco perché l'articolo 3 fa bene a fare quella promessa sapendo però che è una promessa in moto esatto è una tensione come dicevi tu è una tensione e se questa tensione viene a mancare ecco che ristagna la democrazia ristagna e provoca delle reazioni un altro punto che volevo dire anche a proposito di questo è che spesso i capi popolo si fanno forza di di una situazione di questa denuncia o di un'indignazione dei cittadini che spesso è provocata da qui in Italia in particolare ne abbiamo siamo stati in un laboratorio da questo punto di vista inchieste della magistratura inchieste della stampa parlavi del libro di Gian Antonio Stella di Sergio Rizzo sulla casta poi quando arrivano al potere chiudono esattamente queste istituzioni accusandole di essere nemiche del popolo questa è una dinamica abbastanza classica ed è tenuta in mano non solo dai capi popolo come Trump o come Salvini ma anche da altri ecco sui capi popolo una domanda che mi veniva da chiedere era se come spesso è accaduto nella storia italiana in cui c'era il comunismo ma era un comunismo italiano e aveva una sua dimensione italiana e nazionale ed era una versione per certi versi anomala rispetto al movimento comunista internazionale mi chiedo se il populismo del Movimento 5 Stelle si possa definire così e se non faccio eccezione rispetto a quella carrellata di Ismi che portano il nome del capo perché è vero che in una prima fase c'è stato un capo visibile che si chiamava Beppe Grillo e non era eletto non si è candidato nel 2013 ha girato tutte le piazze italiane e il 25% gli 8 milioni di elettori che votarono quella lista nel 2013 in gran parte dicevano lo dicevano anche per strada votiamo Beppe Grillo ma Beppe Grillo in realtà non si era candidato però poi quella fase è stata anche superata e oggi forse uno dei problemi politici che ha il Movimento ma qui ne parliamo in termini vorrei dire più analitici più scientifici ecco forse uno dei problemi è che rispetto all'altro populismo che ha un capo molto visibile e che invece percorre esattamente quella strada la campagna elettorale permanente Salvini è sempre in campagna elettorale l'idea di essere come noi che parte da un tweet dove ci fa vedere cosa mangia a cosa ai bacioni al trasformare qualunque vicenda in un romanzone nazional popolare come è successo anche questa settimana con i due ragazzi che hanno salvato i loro compagni sul pullman di Sandolato milanese che in un primo momento sono stati trattati come una questione politica generale quindi lo you soli lo you soli no ma quando poi si è visto che avevano il consenso sono diventati immediatamente ma solo loro e solo in base a un buon sentimento al fatto che se lo sono meritato che se la sono meritata la cittadinanza ecco che la cittadinanza è stata concessa quindi mentre Salvini percorre esattamente quella strada c'è un partito del capo c'è un capo molto visibile sempre in campagna elettorale che si propone sempre come il suo elettorato forse anche un po' più basso del suo elettorato indossa delle divise che servono a comunicare oltre in modo inquietante un'esigenza di ordine ma soprattutto che non indossa la divisa dell'uomo di stato che non ha la grisaglia ministeriale ammesso che ci sia ancora la grisaglia ministeriale perché in questi anni in effetti ne abbiamo visti tutti i colori mentre l'altro populismo soffre questa mancanza di leadership questa mancanza di capo e si presenta come una leadership impersonale direi anche se ha cercato ovviamente di darsi dei capi dalla Di Maio a Di Battista ma forse soffre esattamente questa mancanza di capo mi chiedo se nel lungo periodo sia più produttivo uno o l'altro o se anche da questo punto di vista come è successo in altre fasi della storia il Movimento 5 Stelle sia un populismo anomalo rispetto agli altri oggetto di studio in Europa e in Occidente io direi che il caso del Movimento 5 Stelle che è molto interessante è parte di un fenomeno in parte populista ma un poco diverso perché è parte di un fenomeno che si chiama Digital Party partito digitale e non partiti che si digitalizzano perché questo avviene ormai da tutti ma partiti che nascono e rimangono solo digitali e questo è Podemos e anche e ce ne sono molti altri in Europa c'è un libro uscito appena pochi mesi fa di uno studioso italiano che però vive negli Stati Uniti che vive in Inghilterra che si chiama Paolo Gerbaudo che si chiama Digital Party che fa una carrellata di tutti i partiti e anche di come sono organizzati hanno queste caratteristiche simili a quelle che noi vediamo nel nostro Movimento 5 Stelle oppure anche in Podemos formano necessariamente dei leader poiché sono così diciamo orizzontali nei rapporti di internet o digitali che hanno bisogno di avere una faccia presente riconoscibile nella quale identificarsi quindi Grillo ha avuto questa funzione e direi che ha avuto anche diciamo l'intelligenza politica di non entrare in campagna forse non poteva per le regole non poteva però questa mancanza di potere lo ha in qualche modo preservato nel corso degli anni poiché non ha mai potuto dimostrare andando al governo di essere un buon o non buon leader di governare quindi questo lo rende perennemente a disposizione in qualche modo mentre gli altri si consumano coloro che vanno al potere il Movimento 5 Stelle tuttavia ha una caratteristica che fa parte della nostra anche tradizione nell'origine dal 45 in poi perlomeno di questo antipartitismo l'attacco alla partitocrazia di questo antipartitismo che è nato insieme ai partiti nel momento in cui hanno costruito la nostra costituzione noi non possiamo dimenticarci che molta parte del paese il sud soprattutto era rappresentato molto più dal partito dei cosiddetti uomo qualunque che non dai partiti strutturati perché al nord fecero la resistenza strutturata con i leader di partita al sud no e quindi se noi ci ricordiamo cos'era il partito di Giannini che non era un partito e leggiamo il suo libro incredibile si chiama La Folla e in quel libro lui propone cose che oggi Grillo e il 5 Stelle propone ed era anche lui un commediografo un commediografo e soprattutto ha l'antipartitismo profondo uomo del teatro del palcoscenico un antipartitismo profondo e l'idea che noi possiamo contenere e controllare coloro che ci governano se coloro che ci governano fanno esattamente quello che un amministratore dovrebbe fare come in un condominio mentre noi possiamo controllarlo e addirittura propone la lotteria cioè il sorteggio per formare una Camera del Parlamento perché? perché i partiti devono essere distrutti se vuoi distruggere i partiti togli le elezioni e fai il sorteggio ma questa è l'origine della nostra democrazia costituzionale e rappresentativa noi ce lo dimentichiamo e lo consideriamo una cosa sempre un poco di secondaria importanza ma questa idea dell'antipartito è rimasta sotto traccia per lungo periodo e si è manifestata quando i partiti un po' con tangentopoli e un po' con le disgrazie varie dei nostri partiti esistenti hanno dimostrato di essere davvero immeritevoli di potere e quindi la creazione per cui dagli anni 90 è diventato un partito vincente è un partito perché l'antipartitismo è unismo è un partito sì e questo mi richiama anche un altro tema la questione del cambiamento delle regole ancora in questo caso anche in questo il caso italiano è molto particolare e singolare perché abbiamo avuto in molte parti abbiamo avuto cambi di costituzione pensiamo alla Francia cambi di regime noi abbiamo avuto in questi anni dei partiti dei partiti personali che cercano anche di costruirsi delle istituzioni fatte su misura in fondo l'ha fatto sia Berlusconi col centrodestra che Renzi col centrosinistra anche se in entrambi i casi hanno perso il momento chiave del populismo cioè il voto referendario il voto referendario certamente ma la domanda che vorrei fare è appunto se la democrazia poi una volta che ha sviluppato una forma che non vorrei prima ho usato la metafora della malattia ma non vorrei dire che il populismo è di per sé una malattia della democrazia può essere anche un momento che la rigenera dipende un po' da come va a finire la partita può degenerare in una forma di autoritarismo democratico nel senso se si intende la democrazia come la domenica ogni cinque anni che si vota e poi dire però tutto il resto cioè dire come ha fatto Erdogan il presidente turco è arrivare al paradosso che la stampa è nemica della democrazia allora non chiamiamo la democrazia d'accordo d'accordo però lui formalmente è eletto oggi si vota domani si vota per le elezioni amministrative lui dice lui ha detto qualche settimana qualche mese fa la stampa è nemica della democrazia perché con questo sillogismo io sono eletto voi mi criticate e quindi siete i miei nemici quindi siete nemici del popolo e nemici della democrazia lui lo dice più esplicitamente essendo forse della compagnia insieme a Putin quello che ha problemi maggiori con la forma democratica ma è un pensiero che Trump condivide in toto allora la partita è aperta cioè la democrazia populista può degenerare in una forma di autoritarismo che magari mantiene inalterate le forme ma svuota la democrazia di contenuto oppure può rivelarsi un momento di rigenerazione democratica però quello che volevo chiederti è quali sono le condizioni di questa rigenerazione cioè a quali condizioni si può arrivare a chiudere una fase che è comunque una fase eccezionale perché è comunque una fase che strema stressa un sistema provocando una contraddizione quasi insolubile al suo interno il populista diventa establishment rifiuta di esserlo quindi rifiuta il ruolo che gli è stato assegnato dagli stessi cittadini e porta la sua mobilitazione permanente non nel senso diciamo prima della rimozione degli ostacoli la sua mobilitazione permanente all'interno di istituzioni che sono un meccanismo molto delicato soprattutto in democrazia e soprattutto sono istituzioni di tutti non sono soltanto di chi le occupa provvisionalmente quindi in questa situazione di continuo stress democratico con quali condizioni si può rigenerare un meccanismo funzionante ma soprattutto un meccanismo che risponda a quelle domande ma in un modo diverso questa è una domanda da milioni di punti perché non è anche se noi volessimo nessuno di noi ha la capacità individualmente di poter dare una risposta a questa domanda perché è una questione attiva di azione quindi se non ci sono attori collettivi in grado di rappresentare una alternativa effettiva all'esistenza delle democrazie populiste le democrazie populiste si stabilizzano e diventano democrazie una maggioranza antipatica che non ci piace che durerà fino a che ci sono elezioni poi si vede alle prossime elezioni c'è un fatto interessante su questo a mio parere che è il seguente no più che malattia molti studiosi si sono un po' bizzarriti in questi ultimi anni per andare a cercare l'analogia giusta no quella l'analogia giusta è quel parassita no quella parassita che prende il posto senza mai prenderlo no dice Darida non puoi entrare prendere il posto e puoi sostituirsi altrimenti non c'è più il corpo dal quale succhiare la linfa quindi ha bisogno della vita delle istituzioni costituzionali per poter abbeverarsi a queste non può arrivare non può nel senso che se arriva è un altro regime di cui noi non sappiamo quindi occorre prestare attenzione a questo e può sempre svilupparsi all'interno la democrazia costituzionale è un sistema complesso non è semplice non è semplicemente andare a votare ogni quattro anni o andare a votare elezioni amministrative che insomma questo è consentito in tutti i regimi anche in Cina ci sono elezioni amministrative e ci sono luoghi amministrativi di partecipazione ma le elezioni politiche non è soltanto voto ogni quattro anni è una permanente libertà di parola associazione organizzazione eccetera eccetera per potere nei quattro anni dal momento T1 al momento T2 di essere capaci di controllare criticare proporre redarguire anche in maniera radicale senza violenza se viene tolto questo aspetto rimane solo T1 e poi dopo quattro anni T2 e dentro in mezzo c'è il vuoto beh non chiamiamo la democrazia può essere benissimo una aristocrazia eletta o una casta eletta benissimo nel senso ha nominato ogni quattro anni per plebiscito sì o no è molto complesso oggi si tende a dire ed è anche questo un problema che ha a che fare con la democrazia che diventa il nome di una ideologia che è così onnicomprensiva di tutto per cui oggi è tutto democrazia e non so e Orban che dice i suoi leggetti i suoi discorsi sono incredibili occorre democratizzare la nostra società e quindi far sì che la maggioranza torni a governare come non può succedere se ci sono corpi autonomi come la banca centrale o come i giudici indipendenti quindi nel nome della democrazia intervengono i critici i critici di cosa? della democrazia costituzionale del governo della legge cioè oggi si dice in una maniera blanda democrazia liberale ma non rende l'idea perché più di questo nel nome di una democrazia iper politicista dove la maggioranza fa il suo gioco deve fare il suo gioco perché se è vero che la democrazia è il potere della maggioranza il potere deve essere esercitato ecco occorre invece recuperare la ricchezza istituzionale procedurale e attiva quindi fuori dalle istituzioni della democrazia in tutta la sua specificità e anche problematicità le democrazia non sono delle passeggiatine per cui tutto tranquillo è un perenne lamentarsi è normale essere critici in democrazia e sarebbe normale non esserlo e poi ricordiamoci un fatto di cui non abbiamo parlato qui perché è un discorso che aprirebbe ben altra argomento ovvero il mutamento dei rapporti di forza all'interno dei rapporti tra le nazioni e le sovranità noi viviamo in un tempo nel quale le democrazia hanno meno potere o potenza che avevano un tempo devono e sono parte di una nette di una rete di relazioni giuridiche di trattati l'Europa ma anche se non ci fosse l'Europa ce ne sono altri di trattati non è che noi se eliminiamo l'Europa siamo il paese più bello assoluto e isolato del mondo assolutamente no ci sono trattati nel campo finanziario nel campo monetario nel campo del diciamo commercio della giustizia dei diritti individuali umani e quindi in questa cornice quello che la sovranità democratica può o non può fare è oggetto di contestazione non è un fatto chiaro assolutamente credo anzi che questo sia uno dei problemi chiave che ha provocato anche tutta la polemica antipolitica e qui non solo in Italia certamente non è un fenomeno solo italiano che venendo meno i poteri dei governi nazionali in particolare la leva pubblica per il consenso ma non solo questo establishment politico per usare la tua espressione questa casta che prima veniva tollerata bene o male veniva tollerata perché veniva comunque percepita come utile a qualcosa se non altro perché rispondeva a una domanda minima la piccola raccomandazione è massima la grande spesa pubblica a un certo punto è stata percepita come inutile e quindi sei inutile sei dannosa in alcuni casi sei anche corrotta e vuoi pure che ti pago l'indennità e vuoi pure che ti che ti pago il biglietto del treno ecco infatti ci sono delle ricerche proprio recenti di un istituto di alcuni istituti anzi europei che mettono in evidenza un fatto veramente nuovo non è semplice fino a poco gli anni due o tre anni fa erano i partiti e l'establishment della stampa è vero così ad essere l'oggetto di critica e quindi anche della diffidenza nei confronti delle istituzioni democratiche adesso è molto più radicale quello che viene che emerge Wolfgang Merkel ha scritto un articolo molto bello recentemente su questo è che paradossale mentre votano quasi tutti anche in Europa non è soltanto l'Italia la questione populista perché fa parte del Belgio è vero cercano o preferirebbero votare o preferiscono votare per un populista quindi iper politicismo ma dall'altra parte se gli si chiede a loro se si hanno fiducia o meno alle istituzioni politiche vengono le risposte che vengono date sono straordinarie sono tutte contraddittorie rispetto al populismo preferito ovvero che si fidano più dei competenti o degli esperti che potrebbe essere un'altra forma di populismo noi in Italia abbiamo avuto anche questo in Francia certamente però quello che viene a mancare fra i due è la diffidenza dei confronti dei corpi eletti dei parlamenti noi nel 2012 2013 abbiamo avuto parliamo sempre del momento 5 stelle ma abbiamo avuto anche il partito di scelta civica che era per certi versi l'opposto ma entrambi convergevano nel dire che la classe politica aveva fallito i tecnici era l'idea solo i competenti possono mettere le mani dove la politica ha fallito il momento 5 stelle era solo i cittadini chiunque può fare meglio della classe politica in mezzo alla classe politica è stata l'ultima l'ultima questione l'ultima domanda che abbiamo solo qualche minuto è questa a volte mi sembra che ci sia una sostituzione come se come avvenne all'inizio del novecento quando i partiti laboristi socialisti in Europa socialdemocratici presero il posto dei vecchi liberali che nell'ottocento in fondo erano l'ala progressista dei vari sistemi così mi chiedo se in questi primi vent'anni di questo secolo stiamo assistendo a una specie di sostituzione in molti paesi europei in cui a farne le spese è proprio quella parte politica che avrebbe dovuto rappresentare non il popolo ma gli interessi e i valori popolari questo sì cioè la sinistra sì e appunto e soprattutto quei valori che consentirebbero di portare a compimento comunque di tentare di portare a compimento l'articolo 3 cioè condizioni di vita degne eccetera eccetera questo è un tema reale e ha a che fare lo diceva recentemente Habermas c'è il tornato su questo argomento varie volte ovvero che i movimenti populisti o sovranisti populisti come si dice in Europa sono praticamente nella condizione di prendersi cura o carico di quelle stesse esigenze che una volta venivano una volta alcuni anni fa venivano invece rappresentate dai socialdemocratici o dai socialisti democratici o dai centrosinistra partiti centrosinistra dell'Europa ed è un fatto reale questo e ha a che fare con la trasformazione di questi partiti che hanno emancipato per diversi decenni e poi hanno chiuso le paratie cioè coloro che erano emancipati sono diventati oggetto di attenzione ma coloro che dovevano ancora esserlo sono restati fuori quindi non hanno continuato l'opera di emancipazione hanno coltivato gli interessi degli emancipati e questo ha reso e siccome abbiamo detto prima che la politica è un moto ondoso che va sempre avanti non è che si possa dire adesso abbiamo realizzato i nuovi poveri i nuovi diciamo cittadini in difficoltà un lavoro non più fisso e legato più a diciamo a soldi che si ricevono più che a salari eccetera che come può essere diventare oggetto di interesse da parte di partiti che sono stati sempre strutturati con organizzazioni e con un lavoro diciamo da fatto da azienda e questo è l'ammutamento dei partiti socialisti che sono diventati veri e propri partiti stabiliti diciamoci la verità lasciando fuori questo mondo non rappresentato e profondamente avvilito e anche qualche volta arrabbiato molto va bene grazie allora noi ci fermiamo qui grazie al professor Sanadia Urbinati e buon proseguimento grazie 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 grazie